Bene, eccoci di nuovo al punto qui, ospiti a Campo Formido del sindaco, della neosindaco Erika Furrani. Grazie per l'ospedalità sindaco, naturalmente buon lavoro perché ha iniziato da poco il suo mandato. Bene, allora, in queste puntate estive del punto noi stiamo passando, stiamo visitando molti sindaci che ci accorgono nelle loro sedi municipali per vedere un po' come vanno le cose dopo le elezioni. Le elezioni sono state, il mandato è iniziato, lei mi pare che è un sindaco autonomista con l'apporto della Lega, eccetera, e il suo, diciamo che il programma elettorale prevedeva molte cose, no? Avete cominciato a lavorare su qualche punto, per esempio, non so, sulla macchina comunale? Allora, innanzitutto benvenuti, sì, come ha detto bene lei, abbiamo dovuto ovviamente e stiamo comunque continuando a fare un monitoraggio di quelle che sono le opere iniziate e stiamo valutando anche assieme agli uffici tutto quello che c'è in corso e anzi, mi sento appunto di ringraziare tutti i dipendenti che ci stanno dando una grossa mano, perché arrivare qua da nuovi e cercare di capire dove si sta... State prendendo possesso un po' la situazione, piano piano, capendo... Certo, perché appunto bisogna fare un attimo lo stato dell'arte, di quello che c'è, no? E poi partire con le proprie idee. Innanzitutto le opere pubbliche vanno portate a termine, quelle che sono già iniziate, e abbiamo anche apportato delle modifiche, in alcuni casi sostanziali, per difendere le tradizioni che con l'opera, come era stata prevista... Per esempio quale opera? La pista ciclabile che va dal polo scolastico di Campoformido verso, diciamo, verso il cimitero. Era previsto di tagliare a metà il lavador e abbiamo bloccato un attimo i lavori e previsto una variante, andando anche a implementare i fondi a bilancio, per prevedere invece il salvataggio del lavador e appunto il salvataggio della tradizione. Quindi avete salvato un po' l'identità vostra. Esatto. Ecco, parlando di pista ciclabile è venuta in mente un po' anche la viabilità che qui a Campoformido è allarme rosso, perché la tangenziale sud è ancora a divenire, anche se si dice sempre che è alle fasi finali, i soldi ci sono, dipende un po' dalla regione, dalla velocità che metterà nel compiere l'opera, però intanto voi avete una viabilità che è pesante, proprio nel senso della parola, perché non solo auto ma anche camion, quindi circolo proprio nel centro cittadino. Quindi questo è una priorità delle priorità. Assolutamente sì. Allora, tangenziale sud. Per quanto riguarda questa opera noi eravamo già favorevoli quando eravamo in minoranza, tant'è che avevamo sempre votato l'unanimità tutto quello che riguardava la tangenziale sud. Purtroppo, poco prima delle elezioni c'è stato il problema del comune di Pozzuolo, che ha bloccato di nuovo, che ha bloccato tutta l'iter. Ovviamente noi ci faremo portavoce e andremo a spingere ancora sul proseguio dei lavori della tangenziale sud. Adesso è cambiata anche l'amministrazione a Pozzuolo. Con i comuni limitrofi parliamo, ci confrontiamo e condividiamo le idee. Quindi non abbiamo paura di affrontare dei discorsi anche così pesanti come può essere un discorso come la tangenziale sud che appunto a Pozzuolo ha creato questi problemi. Noi sì, siamo soffocati dal traffico, lei ha perfettamente ragione. Abbiamo anche in ballo un altro grande progetto, che è quello del corpo dei vigili. E quindi sicurezza? Esatto. E quindi sulla viabilità? La sicurezza, esatto. In questo momento il corpo dei vigili lo fate da soli, siete in consorzio? Allora noi adesso abbiamo la convenzione col comune di Pozzuolo. Pozzuolo, no. Però attualmente noi in servizio abbiamo due agenti. Per un comune Campo Forbino non è il massimo. No, è molto sottodimensionato. E quindi, allora innanzitutto stiamo procedendo con le assunzioni, intanto con lo scordimento delle graduatorie dei comuni che hanno già fatto i concorsi. Prima cosa, stiamo cercando di organizzare non solo una convenzione con il comune Limitrofo Pozzuolo, ma stiamo cercando di organizzare un corpo vero e proprio, insieme anche ad altri comuni che ruotano più o meno sullo stesso asse nostro. Questo però è ancora un progetto in divenire. In divenire, va bene. Si è stato facendo un monitoraggio di vari uffici, è chiaro, no? Ecco, poi il piano regolatore generale metterete in mano oppure è stato fatto recentemente? Allora, noi in campagna elettorale avevamo promesso che non avremmo sviluppato ulteriormente le aree, ma eventualmente avremmo valutato solo di unire le aree con termini. E su questa linea siamo ancora convinti, quindi di svilupparlo ulteriormente non c'è l'intenzione. Cioè va bene Campoformio a questa dimensione, in sostanza. Poi c'è il rapporto con i comuni Limitrofi, no? Quindi Pasia di Prato, Udine in primis, poi mi pare avete appunto detto Pozzuolo, eccetera. Ecco, con Pasia di Prato e con Udine che sono i comuni, diciamo così, Pasia di Prato e Campoformio, c'è i comuni Frondai, i comuni di Udine, dalla parte sud. C'è un idem sentire, perché adesso le amministrazioni sono più vicine di prima, mi pare, come asse politico, mi pare. Sì, allora, beh con Udine non dico che ci sentiamo settimanalmente, ma quasi. E quindi il confronto è comunque molto molto frequente. Tra l'altro mi piace ricordare che è stata una nostra iniziativa, quella proprio di un mese e mezzo fa, quindi un mesetto dopo le elezioni, invitare la giunta del comune di Udine, qui da noi, appunto per presentare dei problemi che ci accomunano. Perché abbiamo alcune zone del nostro territorio che sono a confine col comune di Udine. E quindi avevamo invitato la giunta, quindi era venuta tutta la giunta di Udine, che il sindaco compreso. Stato cittadino, no, di Campoformio. Assolutamente. O lui ancora probabilmente. Sì, 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 è residente in questo comune. E quindi insomma c'è un'asse anche, diciamo così, particolare. Sì, assolutamente. Come è giusto che sia. Assolutamente. E quindi noi avevamo fatto questo incontro molto informale, anche se era formale il fatto di invitare le giunte, infatti l'abbiamo chiamato la giunta congiunta, proprio per trovare questi punti di contatto e trovare assieme, anche se avviare, diciamo, in maniera preliminare questo contatto per risolvere dei problemi della zona di Santo Svaldo, per esempio, per farvi un esempio. Giusto, giusto, giusto. Senta invece, per quanto riguarda i grandi eventi a Campoformio, no, la tradizione, diciamo così, anche sportiva c'è, c'è stata sempre, avete anche degli impianti molto belli, eccetera. E come stanno le cose, per esempio, grandi eventi sportivi ci sono ancora, eventi anche culturali, insomma. Beh, allora, eventi culturali ne abbiamo condiviso uno di recente, il 22 luglio, che è Folclorama, che è stato fatto a Bressa, nel piazzale della chiesa, che tra l'altro è una location particolarmente adatta e affascinante, perché sullo sfondo della chiesa è stata veramente una bella esperienza. Per quanto riguarda anche gli eventi futuri, io direi, abbiamo già avuto contatti con il Comune di Pazian di Prato, per quanto riguarda la zona che noi condividiamo dell'aeroporto Francesco Baracca. Sì, che è un, diciamo così, un, sono due denti che si toccano, la sostanza, posso farvi ricordare. Esattamente. Ecco, quindi quella è una zona che sarà, diciamo così, normalizzata, ecco, in sostanza. Ecco, e quindi lei ha scelto, per esempio, di essere a tempo pieno, c'è qualche vostro assessore che è a tempo pieno, oppure no? Allora, diciamo che io in questo momento mantengo il mio lavoro, ma gran parte del tempo sono qua in Comune. Gli assessori possono, alcuni sono liberi professionisti, quindi possono ritagliarsi i loro tempi, e altri chiedono dei permessi, ma ecco, una cosa che mi piace dire a tutti quelli che mi chiedono come ti trovi adesso che sei sindaco. Sono molto aiutata, ho degli assessori molto validi e molto disponibili, quindi il mio lavoro di sindaco non è così gravoso come lo è stato magari nel primo mese quando gravava tutto sulle mie spalle. Insomma c'è squadra, ecco. C'è squadra, sì. C'è squadra. Invece per quanto riguarda l'opposizione, qual è il rapporto in questo momento? Sì, avendo un ex sindaco d'altra parte, per cui c'è sempre questo, all'inizio magari c'è un po' di scintilla, ma dopo insomma le cose sono lì. Sì, in effetti per il momento, come dice lei, ci sono scintille, ma non da parte nostra, o almeno non da parte mia. Posso capire l'astio, il rancore, il dispiacere per non essere stato rieletto, però noi siamo disponibili al dialogo e al colloquio e se ci sono suggerimenti che vogliono dare, noi come l'avevamo detto in campagna elettorale per quanto riguardava i cittadini, lo ribadisco anche adesso, anche la minoranza, se ha delle idee valide, noi le accettiamo e non è che poniamo il veto a prescindere. Ecco, senta, per quanto riguarda, per esempio, i referati, come li ha distribuiti, per esempio, cioè c'è il lavoro pubblico e urbanistico, cioè li ha dati secondo la predisposizione degli assessori che ha, oppure, cioè ha visto la professionalità degli assessori? Allora, ho valutato le esperienze pregresse e la loro disponibilità e le loro capacità, ma anche le loro volontà sostanzialmente, quindi non dico che se li erano già scelti, perché alcuni li ho, fra virgolette, imposti, non mi piace di usare questo termine. Sì, ma ha dovuto in qualche modo scegliere. Ho dovuto, certo, però diciamo che sono stati scelti sì, soprattutto per competenze. Ecco, poi un'altra cosa importante, perché girando i comuni c'è anche il problema dell'organizzazione, quindi il segretario comunale è una cosa molto importante. Voi l'avete fisso, l'avete scavalato, perché mi pare che molti hanno questo problema, che non è da poco, no? Infatti il segretario comunale è un nostro problema, perché innanzitutto ce l'abbiamo in convenzione col comune di Pozzuolo. Condividete con molti, è quello che sento, perché questo è un altro allarme. Ma andrà in pensione fra pochi giorni e quindi è già appena insediati che stiamo cercando un nuovo segretario. Adesso abbiamo alcuni nomi, stiamo facendo delle nostre valutazioni, insomma cerchiamo di chiudere il prima possibile. Ecco, terminiamo questa chiacchierata, che ringrazio per appunto la sua disponibilità. Un momentino, il rapporto con la regione, come se c'è e come lo vede? Allora, il rapporto con la regione, beh, intanto siamo appena arrivati, poi adesso insomma è un periodo un pochino critico, perché è un periodo di ferie, eccetera. Ma il rapporto c'è e anche in campagna elettorale, quando abbiamo avuto qua ospiti, vari assessori regionali, eccetera, ci hanno sempre espresso la loro volontà di darci una mano. Quindi ci hanno sempre detto, se avete bisogno, chiamate. Abbiamo avuto contatti recentemente con l'assessore Pizzimenti. Tra la parentesi e lui, no? Depositario un po' di quello che è l'allarme rosso. Esatto, esatto. Quindi la viabilità. Esatto, esatto. E quindi appena terminerà il periodo delle ferie, sicuramente lo ricontatteremo per avere aggiornamenti e perché ci possa inviare sulla strada giusta. Per ripartire, per chiudere questo problema. Assolutamente. Bene, allora lei andrà in ferie? No, le farà qui. Probabilmente quest'anno sarà un po' di sacrificio. Bene, allora, augurare un buon lavoro al sindaco Furlani. Grazie. Naturalmente torneremo a trovarlo, o verrà lei a trovarci negli studi di Telefriuli. Io ringrazio veramente, perché ci erano tanti messaggini di simpatia e quindi ringrazio anche per la vostra vicinanza. Vi do appuntamento alle nuove puntate del Punto, a seguita di Telefriuli. Un grazie all'amico Bassi e al nostro cameraman e grazie ancora al sindaco di Campo Forbido. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie a voi.